Bella ragazzi, prima che questo video inizi, sto facendo chissà che cosa, intro, ma intro finito, vai cazzo! Ok, va bene, cosa penso delle sigarette? Beh ragazzi, io, anzi, vi ho detto una piccola cosa prima, adesso, oggi uscirà il video del parkour, primo episodio serio, primo episodio serio, quindi per le, per le, l'1 o le 2 del pomeriggio uscirà, quindi ragazzi state scegli che uscirà il video, l'1 o le 2 del pomeriggio uscirà, l'1 o le 2 del pomeriggio uscirà il video, quindi sceglissima! Comunque sia, accenniamo alla questione, cosa penso delle sigarette? Ragazzi, io delle sigarette, io sono un fumatore, ok? Io fumo le sigarette, ragazzi, le fumo! Ok, le fumo, sì! Però, in verità, non so che devo fare il video serio, devo farlo serio, cazzo! Comunque sia, ragazzi, io delle sigarette, non posso pensarla più di tanto, nel senso, secondo me le sigarette, ragazzi, è una cosa psicologica, in teoria, in 21, anzi, in pratica, in 21 giorni, tu, se non fumi per 21 giorni, non hai più bisogno delle sigarette, proprio come mi sono fatto malissimo, guarda che roba! Qua, tutto qui, porca tre, ma che roba! Sono caduto dalle spade, ragazzi! Questa, ragazzi, le sigarette, è una cosa psicologica! Tu, molti dicono, eh, il gesto è così, quello così, tenerlo così, invece non è vero, molti dicono, mastica un chewing gum! Ragazzi, non è così, quello che serve, in verità, quello che ti manca della sigaretta, non è questo qua il movimento, il gesto, è tutto nell'aspirare, fai... Quando fai così, quando senti il fumo che ti entra dentro e te lo spingi fuori, quello è il bisogno che uno sente, non è il gesto, ragazzi, non è il gesto, è il sentirlo dentro, è il sentirlo, è il momento tuo del relax con la sigaretta, c'è la sigaretta, è il tuo momento che sei tranquillo e fumi, ma pur quanto ho mangiato, ti senti bene, però ragazzi, non possiamo negare che faccia male, è un danneggiamento che diamo al nostro corpo, io la penso così, è normale, io l'ho sempre passata, vivi la vita, Sto cazzo di batteria scarica, vivi la vita come cazzo vuoi, la vita è una sola, viverla come cazzo vuoi, sì ragazzi, è vero, ma di viverla nel miglior modo possibile, non rovinandoti, però io l'ho sempre passata così, comunque se vuoi fumare, fuma ragazzi, la vita come cazzo vuoi, la vita è una, viverla come cazzo vuoi, sì, però sinceramente sto pensando di smettere, perché fumare ragazzi, darmi già il nostro corpo per niente, Anche se non è per niente facile, tu dici 21 giorni, uno che non fuggirebbe 21 giorni senza fumare, ma che cazzo ci vuole, se sei un fumatore e dice 21 giorni senza fumare, che cazzo ragazzi, non ce la farò mai, è giusto perché, tu il tuo corpo ha bisogno di quella dose, di quella dose giornaliera di fumo, Che sembra una cazzata, ma ragazzi ha nicotina, è una droga, è una droga, non è gente, sì comunque sia, perché ti rovina, però è una droga che, come dire, io ho la droga della velocità, io ho pure la droga della velocità, quando vado piano non voglio, vado veloce, mi sento bene, è una scarica di adrenalina, quella è una droga, una droga buona però naturalmente, come dire, la mia droga, te la pesca, te la pesca, te la pesca, che mi piace, è così, stessa cosa, droga di adrenalina, tu fai queste cose perché la adrenalina, mi spinge sempre più in là, la stessa cosa è la sigaretta, la droga, le droghe sono quelle cose che non puoi farne a meno, ed è questa la cosa, quindi ragazzi, io la penso così, è una cosa fatta, è una cosa fatta così ragazzi, è ovvio che adesso, non vi sto qui a spiegare, porca puttanata, fa malissimo qualche roba, porca, metti a fuoco, metti a fuoco cazzo, metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. metti a fuoco, mi farò vedere la mia ferita, oh, poi mi metterà a fuoco, che riga fa male, buon tiro a fumare, sono così ragazzi, la sigaretta è fatta, è una cosa così, però, potete sempre pensarla che, potete sconfiggerla ragazzi, noi non siamo schiavi, voi non siete schiavi delle sigarette, voi siete a comandare però, la sigaretta è così, comunque sia ragazzi, quello che penso io, che la sigaretta è una cosa fantastica, perché è un momento di, secondo me, è un momento di relax, tra te la sigaretta, però è un momento di relax con te stesso, ti senti bene, però danneggia, ma noi non ce ne frega un cazzo, noi siamo fumatori, e porca mignotta. Comunque sia ragazzi, io, la penso così, poi, non so, ditemi voi, vi ringrazio per questi 381 iscritti, ragazzi, siamo 19 iscritti dal trequarto dei 400, è una cosa, 19 iscritti e siamo a 400, ragazzi, vi ringrazio per i miei settori, 19 iscritti dovrei farli, dovremmo esserci fra 5-6 giorni, 4-5 giorni, più o meno di una settimana, quindi lo speciale 400 iscritti, ragazzi, non sarà così lungo come i 350, nel senso lungo, è stato corto, per esempio sarà più lungo, non aspetterò, tipo quelle due settimane, sarò subito, appena arrivano a 400, ragazzi, Vabbè, se farò lo screenshot e farò la patatria, davvero ragazzi, manca poco, io vi adoro, vi chiedo di condividere i miei video, di farli vedere ai vostri amici, di crescere insieme, ragazzi, comunque sia, se volete diventare, che ne so, uno dei The Masters, fate i video, vi darò la email e la password, e poi metterete i video, entrerete nella community, effettivamente, effettivamente voi potrete mettere i video su quel canale, farvi conoscere meglio, scrivetemi su Facebook, Alex Malice, troverete il mio profilo privato, mi iscrivetevi nella teoria, io vi parlerò, parleremo un po', raga, non lo so, cazzo, Alex Malice, il mio profilo privato, scrivetemi, minchia raga, ditemi voi, comunque sia, è bello parlare con voi, anche se non mi sento, comunque sia, sono le due e un quarto di mattina, per meno, se di notte io alle 10 devo stare sfidato ad andare in cascina, quindi ragazzi, il video del parkour sarà in cascina, appena lo vedrete, la cascina di terrori, ve la ricordate, sarà un piccolo passato di quando avevamo qui 40 iscriviti, quando eravamo 40 Masters, che adesso siamo 381, ragazzi, fantastico davvero, non mi sarei mai aspettato un traguardo così appena a marzo, in 6 mesi, in 5-6 mesi, fantastico, ragazzi, io vi saluto qui, ci vediamo oggi, tra, diciamo, 12 ore, e fra 12 ore ci vedremo con un nuovo video del parkour, primo episodio, beh, ragazzi, spero che questa tipo di lezione di cosa pensi io delle sigarette vi sia piaciuta, se ne volete, se volete altri episodi così, o altre cose così, altrimenti voi dite, però, minchia raga, ci vediamo, bella, vi amo, minchia, porca troia, bella raga, e allora, grazie a tutti, ciao